Provano ad andare in scivolata C'è pressione su di lui Elegante qui con il tacco Mamma mia cosa ha fatto qui Occhio, sì, è calcio di rigore Rigore, l'arbitro fischia il rigore E arriva anche l'ammunizione per il giocatore che ha commesso il palla Non ci sono dubbi Voleva prendere la palla, probabilmente era un intervento onesto Ma ha colpito le caviglie dell'avversario Troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata Finendo per falciare il proprio avversario Trentissimo, la mette dentro Rigore calciato con sicurezza Palla che finisce in rete Bella, decisa, ferma questa conclusione Non ha lasciato scampo al portiere Hanno aperto le barcature con questo gol 1-0 Ottimo tiki-tacca Pericolo, ecco il tiro Grande parata questa Si riparte col calcio d'angolo E il pallone entra Ed è gol Hanno segnato, sfruttando al meglio però Le lacune della difesa avversaria Davvero troppo timida Grande libertà per lui Grande colpa per i difensori Capitalizzato al meglio Grazie a tutti Grazie a tutti